Quando i computer dismessi e inutilizzati possono diventare un valore per la collettività. È il progetto al quale sta lavorando il club Rotaract Valle del Metauro che ha deciso di aiutare chi non possiede un PC o chi comunque ne ha bisogno ma non ha la possibilità di acquistarlo. L'idea nata dai ragazzi è quella di raccogliere i dispositivi rotti o lasciati in cantina. Un'azienda si occuperà di ripararli e poi il club che sosterrà interamente le spese, compreso il trasporto, contatterà i nuovi destinatari che li riceveranno il regalo. È un progetto del service coniuge del governatore del Rotary del distretto 2090. È un service a cui noi club Valle del Metauro abbiamo aderito ed è un service che si propone di raccogliere computer usati, obsoleti, ricondizionarli e donarli a chi più ne ha bisogno. Siamo un club che copre la vallata del Metauro e quindi i comuni di riferimento sono i comuni di Fano, di Urbino e di Cagli. Nei prossimi mesi poi ci occuperemo di aiutare famiglie, anziani come ad esempio anche Caritas, insomma chi ne avrà bisogno e noi cercheremo di accontentare tutti in base alla disponibilità dei nostri PC. Chi avesse un PC da donarvi come deve fare? Quali sono i riferimenti? Chiaramente esatto, noi approfittiamo di questa opportunità, infatti vi ringraziamo per rivolgere un invito a privati e aziende che hanno disponibilità di donare questi computer e chiaramente ci potete contattare nella nostra pagina Facebook o pagina Instagram Rotaract Valle del Metauro.